Buongiorno, buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione, l'ipnosi di CS vera e professionale. Oggi parleremo di fretta, 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 tutti vanno di fretta, corri, 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 corri. Una volta andai in Albania circa 15 anni fa, 20 anni fa e vidi in Albania che tutti andavano a rilento, andavano piano piano e compagnia bella. E lì mi stupì, mi meravigliai, perché? Perché dissi ma non sono come in Occidente, in Italia, puoi andare a Parigi e anche lì li vidi invece al contrario, molto più in fretta degli italiani, molto più in fretta degli stessi milanesi e compagnia bella. Perché ti racconto ciò? Che cosa che vedere ciò con l'ipnosi di CS vera e professionale? Bene, ti racconto ciò perché, se rifletti, noi siamo ciò che pensiamo e non siamo ciò che vogliamo. Che significa? Che noi abitando in un sistema, in un ambiente come Milano, Parigi, New York, Los Angeles e compagnia bella, noi assumiamo inconsciamente, senza rendercene conto con la ragione, i comportamenti, l'intercalare, l'accento, la fretta, la calma di chi ci circonda. Perché inconsciamente il nostro pilota automatico, il nostro subcosciente, l'88% della nostra mente assorbe e si conforma. Quindi se hai accanto persone che corrono, che hanno fretta, tu diventerai come loro se non peggio di loro. Infatti il famoso proverbio, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Non è un caso. Oppure c'è un altro proverbio che dice che siamo la media delle cinque persone che frequentiamo di più al giorno. Che ascoltiamo, con cui interagiamo e parliamo, che sentiamo, con cui proviamo emozioni, eccetera. Siamo la media, se rifletti è vero. Ecco perché ad esempio molte volte un emigrante parte da un paesino poverissimo, io mi ricordo ero figlio, sono figlio di emigranti, mio padre partì per la Francia, la Svizzera, lavorò dieci anni in Svizzera, dieci anni in Francia, e quando arrivò lì mio padre piano piano partì da sotto zero e arrivò ad essere il numero uno in Svizzera e in Francia facendo il muratore, partendo da Manovale e compagnia bella. Perché? Perché voleva emulare, copiare, tra virgolette, chi gli stava accanto? Cioè i francesi, gli svizzeri e compagnia bella. Ma al paesello, purtroppo, se c'erano accanto persone che andavano con più calma, con più tranquillità, perché non c'era nessuno che li aspettava, bene, lui si comportava di conseguenza. Ecco, non lui, il suo subcosciente, senza rendersene conto. Mentre in Francia, in Svizzera, all'epoca, ti parlo di 60 anni fa circa, si correva, oggi si vola, perché viviamo in una società con l'orologio, con i tempi, con la fretta, l'autobus passa a quest'ora, l'appuntamento a quell'altro. Ok? Per cui anche la fretta, il tempo è ipnotico, ipnotico. Dipende dove stiamo. Se tu vai in Africa o in paesi sottosviluppati, vedrai che tutti camminano più lentamente, come camminavano i nostri antenati 100, 200, 300 anni fa. Che chi ne dica qualcuno? Poi è arrivata l'industria e ha cambiato, ha stravolti il modo. Cioè noi dipendiamo dal tempo, non il tempo da noi. Ok? Per cui se tu vuoi calmarti, eliminare lo stress causato dalla fretta, dal correre, dallo stressarti perché hai il tempo misurato e compagnia bella, puoi utilizzare l'ipnosi di CS vera e professionale, anche con lo semplice audio MP3 di CS, che puoi fare al caso tuo oppure del tuo caro che magari non vuole il tuo aiuto, non può ricevere il tuo aiuto, e cambiare questa equazione perché anche lì si agisce con le suggestioni di CS, le parole positive e costruttive naturalissime, pur potenti, create ad arte, ad hoc, dall'associazione i prolegi associati e dal sottoscritto, tu agisci sul tuo subcosciente, quindi calmando il tuo pilota automatico e facendolo lavorare velocemente con la dovuta calma. È controintuitivo ma è così. E la prova del 9 è perché c'è la minoranza che lavora al top del top senza stressarsi, senza fretta, senza avere nessun tipo di problema. Ma mentre la stragrande maggioranza è sotto la cappa della pressione, dello stress, della fretta, che ci contraddistingue tutti, dal più povero al più ricco, ok? Per cui non credere a nessuna parola del sottoscritto, penso soltanto che l'ipnosi vera e professionale è riconosciuta come medicina alternativa dell'Associazione Medica Mondiale nel 1958 e della Chiesa con Papa Pio IX nel 1847. Per cui tutti i santicrismi per essere accettata anche da te che magari conosci soltanto fino ad oggi l'ipnosi fuffa, l'ipnosi paura, l'ipnosi da spettacolo o magari, se sei nel mondo dell'ipnosi, anche l'ipnosi conformista e commerciale di Milton Edison, ottima attenzione, ma che non è per nulla uguale l'ipnosi di CS, almeno di CS, di Rosane Gersley Vils, il professor dottor Michelanghelgarati e la dottoressa Rina Prunine del sottoscritto che da 12 anni si auto-ipnotizza a H24 ed ha affinato questa rimpinica con le proprie esperienze personali e su centinaia e centinaia di persone nel mondo. Visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com Visita la mia fanpage su Facebook ipnosi, auto-ipnosi del dottor Claudio Saracino Iscriviti a questo canale YouTube Benessere Ipnosi Soluzioni di CS del dottor Claudio Saracino e fa share, condividi con amici e parenti perché può essere quel quid, quella molla che gli può cambiare la vita come è successo anche a me nel 2008 e seguimi anche su Instagram e Twitter Benessere Ipnosi Soluzioni di CS del dottor Claudio Saracino Un bacio, un abbraccio e credi in te stesso, in te stesso, ciao!